Andrea Bacci al termine di Flamina, scelta del senato da Varnelle, Presidente, una vittoria incredibile, un campionato vinto, si può veramente festeggiare? Che emozioni sta provando? Allora, sinceramente mi sembrava quasi impossibile di essere riuscito a portare la nostra società in un ambiente come il nostro, non è facile, si lavora bene, però va un po' programmato, sono anni che ci sto pensando, è una soddisfazione immensa anche perché è una stagione come questa dove penso che nessuno non ci ha regalato niente nessuno, perché su 34 partite o domenica la prossima siamo stati in testa 33 partite. Per cui questo vuol dire un domenio assoluto, complimenti a Poggi Ponsi perché tutt'ora è a 5 punti e tenere il passo nostro è stato spesso difficile. Un'impresa straordinaria, una vera e propria macchina dal gol, ci sono stati momenti difficili come spesso accade nello sport, però questo credo che dal 2006 ad oggi resterà uno dei giorni più belli della storia di questa giovane, ma come diceva società che ha programmato così bene il presente, il passato e il futuro. Sì, diciamo che il successo di oggi insomma corona un po' anche il mio progetto degli ultimi anni, ovviamente di carattere sono uno che non si accontenta quasi mai, va sempre qualcosina in più, però sono abituato nello sport e le cose vanno programmate se le vuoi ottenere. Quest'anno abbiamo rafforzato il gruppo squadra, lo staff l'abbiamo riconfermato, abbiamo messo a disposizione la squadra, ho sempre fatto tutto quello che ci chiedevano, per cui onore ai ragazzi che hanno fatto e allo staff un lavoro incredibile. Adesso Andrea qualche giorno di riposo e poi subito al lavoro? Eh sì, diciamo, ora organizziamo, pensiamo alla festa di domenica, voglio fare una bella festa, dove spero venga molta gente di paese, dove si farà pagare il biglietto, perché è giusto che sia così per i ragazzi, perché chi viene a vedere una squadra che ha vinto il campionato con una giornata d'anticipo, con tutte le vittorie fatte, con tutto questo punteggio, considerando il Montevarche l'anno scorso l'ha vinto con 71 punti, noi siamo a 78 e manca ancora una giornata, per cui è giusto che viene domenica allo stadio, venga a applaudire i ragazzi e venga a contribuire alla felicità di tutti.